Ciao amici, guardate, vi devo dare il giro, vi do il giro, perché vi voglio far vedere che sono, allora, finiamo, eccoli, vedete? vedete come sto spudendo ragazzi, questo è quello che mi sta succedendo, guardate che roba, così sempre, faccio 2 litri, 2 litri e mezzo, 3 litri di urina così, guardate che roba, guardate con i filamenti, così dai, sto andando bene secondo me, sto andando bene, incredibile, volevo far vedere, mai visto una roba così, è torbida, è torbida la mia urina, non è, cioè non so se, è torbida, e poi adesso questa qui è venuta chiara perché ne avevo fatto un'altra che era poco, capite amici, guardate che roba, guardate che spettacolo, questo sta succedendo da quando faccio artemisia idroalcolica e il protocollo anticandida, ok, secondo me ci sono, forse coraggio, io vado avanti, porca miseria, vado avanti, vado avanti, ciao ragazzi, vabbè, vi faccio vedere, sono in forma sprendita tanto, ecco così, ciao, vabbè, così, sono in forma dai, sto recuperando, arriviamo, tra poco arriviamo, 6 Imicena 3 Um ль Acta 6 Imicena 6 Imicena 3'tas 3 6 7 4 6 7 7 7 Grazie a tutti